Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Vasta operazione antidroga nel Tarantino questa mattina a Taranto in vari comuni della provincia Massafra, Palagiano e Statte. I carabinieri hanno realizzato un'operazione antidroga eseguendo 16 arresti, 13 in carcere e 3 ai domiciliari. L'operazione ha visto impegnati militari del comando provinciale di Taranto, le unità antidroga del nucleo cinofili di Modugno e un elicottero dell'elinucleo di Bari Palese per un totale di circa 80 uomini. Denominata da Transporter, l'indagine è ruotata attorno alla figura di un 22enne Tito Mele Massafrese che attraverso una fitta rete di fidati pusher si approvvigionava di droga a Taranto per poi rivenderla al dettaglio nei comuni di Massafra, Palagiano, Palagianello e Statte riscuotendo dalla vendita lucrosi guadagni. L'indagine condotta dalla liquota operativa del Nord di Massafra tra il 2018 e il 2019 è nata a seguito dell'incendio dell'auto di un pregiudicato di 35 anni di Palagiano, Mario Infante, il quale aveva assunto una posizione influente nel traffico di droga, suscitando la reazione dei gruppi concorrenti. La rete poteva fare affidamento su soggetti impiegati nel recupero dei debiti, anche con metodi violenti e minacce di morte. Sequestrati 150 grammi di cocaina, 200 di hashish e diverse dosi di marijuana. Non è stata recuperata invece la pistola oggetto di compravendita tra due indagati, coinvolti negli spostamenti anche in orari notturni diversi veicoli e persino un minore di 14 anni. Una brillante operazione condotta dalla compagnia carabinieri di Massafra in quei territori, territori che abbracciano i comuni di Palagiano, Massafra e Statte. Un'operazione che ha visto coinvolte 18 soggetti nel suo complesso, 16 di questi tratti in arresto. Quindi un'operazione che ha trovato riscontro anche nella magistratura. Abbiamo voluto a un certo punto interrompere l'indagine che forse poteva portare anche a un qualcosa di più, perché abbiamo visto un numero sempre crescente di minori che acquistavano queste sostanze sufficienti e quindi ci è sembrato corretto intervenire tempestivamente per infrenare appunto questo pessimo fenomeno. 3.000 unità di personale civile con profilo tecnico potrebbero a breve essere impiegate nei poli di mantenimento negli stabilimenti militari, tra cui l'arsenale di Taranto. A comunicarlo il senatore Mario Turco, già sottosegretario a Palazzo Chigi, con delega agli investimenti alla programmazione economica del governo Conte II. Il piano triennale delle assunzioni del Ministero della Difesa, spiega il senatore Turco, si avvia alla conclusione. Le assunzioni saranno rese possibili grazie al piano straordinario di stabilizzazione per gli arsenali di Taranto, Brindisi, La Spezia e Augusta, cui si aggiungono altri insediamenti militari di Piacenza, Terni e Aulla. L'obiettivo, sottolinea il sottosegretario, consentire un ricambio generazionale e un aumento delle maestranze nei poli militari. Sono 3.235 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Italia, a fronte di 301.773 tamponi effettuati. Certificati in oltre 39 decessi su tutto il territorio nazionale, il tasso di positività si attesta all'1%. In Puglia, i dati di ieri parlano di 143 contagi in più, di cui 18 nel Tarantino, mentre non si sono riscontrate vittime. Continua la campagna vaccinale anche nell'area ionica. Solo ieri mattina più di 600 somministrazioni negli hub di Taranto, Grottaglia e Massafra. Fervono cantieri in città, come da richiesta dei cittadini negli ultimi anni. Questa città sta cambiando la sua immagine, stanno rigenerando ogni zona della città. Mi fa piacere quest'oggi avvisare un po' tutti che finalmente siamo anche prossimi all'avvio dei lavori sul quartiere Tamburi. Quindi, insomma, presto daremo informazione ai cittadini di questa clamorosa, insomma, importantissima trasformazione del quartiere Tamburi. Mentre oggi, come avete visto, siamo in giro per sopralluoghi, per dei cantieri che invece stanno partendo ad opera della direzione polizia locale, che ringrazio. In particolare la rotatoria su via Cessere Battisti, che contribuirà a dare decoro a quell'area nell'asse verso Cimino, verso il centro commerciale. E poi, come vedete, siamo, come da impegno con i cittadini, continuando l'attività di progettazione e riqualificazione della pista ciclabile in connessione fino a Valle Magna Grecia, per creare quel grande anello che deve cambiare la nostra mobilità e trasformare anche un po' le nostre abitudini per la nostra qualità della vita. La sostenibilità al centro del convegno tenutosi quest'oggi a Taranto. Il capologo ionico partecipa infatti al Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, in collaborazione con la Camera di Commercio e altri autorevoli stakeholder. Il tema del Festival è la città sostenibile e resiliente attraverso l'Agenda ONU 2030, il patto città-campagna-lagro-urbano, una ricomprensione della città come tutto connesso. Al centro diversi progetti che vedono un nuovo rapporto tra impresa e territorio e politica. Il gol dell'Agenda ONU, tra i relatori, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Taranto, Gianfranco Chiarelli, e il presidente di Asso Benefit, Mauro Del Barba. Grande manifestazione che la Camera di Commercio accoglie sempre con grande entusiasmo, con grande dirigenza a fianco delle imprese. Oggi il tema che sarà affrontato è quello delle società Benefit, dove la Camera di Commercio è stata anche lungimirante e promotore di queste iniziative all'interno del panorama nazionale. Già nel 2010 avevano aderito in conformità della norma. Oggi abbiamo anche il nostro segretario generale, l'ottoressa Sanesi, che modellerà tutta la sessione che si terrà. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.